Il padre di Maria è giovane. Ha incontrato una sua nuova insegnante. Il tremonto sulle montagne è magico. Ho un'amica che è molto sincera. Una zanzara mi appunto sul braccio. Giovanni è il più bello della classe. Il libro è del mio amico Luigi. Bisogna ascoltare gli esperti. Le valigie sono rimaste sul treno. L'italiano non è la mia lingua. Uno zio di Claudia è molto vecchio. Hai finito tutti i tuoi esami. A Napoli, c'è bella. Abbiamo avuto una buona idea. Chi? Chi non cucina, poi lava i piatti. Chi vuole partecipare e si iscrive. Non mi piace chi è maleducato. So chi ha fatto questo dipinto. Parlo con chi mi sta ascoltando. Non ho visto chi è andato via. Chi è andato via. Che? Cui? Mi piace il vestito che hai preso. Ecco gli amici che mi aiutano. Luca, a cui ho detto tutto, è qui. Il cane che ti inseguiva è mio. Chiamo Lisa, di cui non so nulla. Questa è una festa che mi piace. Il quale? Gianni, il quale è mio amico, è alto. La frutta, la quale è buona, fa bene. Ecco Claudia, la quale è molto bella. L'auto, la quale è qui fuori, è rotta. Vado dal nonno, il quale è a casa. Lo dico a lei, la quale non sa nulla. I libri degli studenti sono sulla scrivania. I clienti parlano con il cassiere del bar. Coltelli e forchette sono nel cassetto. I piatti dei clienti vengono dalle cucine. Vado dal panettiere a prendere il pane. Gli esercizi degli amici sono molto utili. Gli uccelli stanno sui rami dell'albero. I vestiti della sua amica sono eleganti. Il mio telefono è rimasto nello zaino blu. Queste sono frasi sulle preposizioni. Luigi telefona ai suoi nonni a Napoli. Sul tetto della casa c'è una finestra. Andiamo in mensa a l'uno e un quarto. Abitiamo al primo piano del palazzo. Dopo ti chiamo da casa. Devi tornare a casa tua. In casa ho molte piante. Cammino in giro per casa. Domani rimango a casa. Sono andato via di casa. Casa mia è accogliente. Siamo entrati in casa. Siamo rientrati a casa. Il cane è scappato di casa. Casa mia è anche la tua. Non ho cibo in casa mia. C'è un'antenna sulla casa. Cambio i mobili della casa. Ho già visto questa casa. Voglio comprare quella casa. Qui non ci sentiamo a casa. Claudia sta cercando casa. Luca salva i cani senza casa. Non voglio restare a casa. Non voglio stare in casa. Non voglio stare in casa. La baremma è un problema. Mangiare. Digiunare. Chiudere. Aprire. Parlare. Tacere. Matrimonio. Divorzio. Pulito. Sporco. bello, brutto, dolce, amaro, opaco, lucido, felice, infelice, dietro, davanti, guerra, pace, colpire, mancare, ordinare, disordinare, liscio, ruvido, con, senza, sotto, sopra, giù, su, maturo, acerbo, riposato, stanco, alto, basso, leggero, pesante. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno, io sono, tu sei, lui, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Io avevo, tu avevi, lui, lei aveva, noi avevamo, voi avevate, loro avevano. Io ero, tu eri, lui, lei era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. Io avrò, tu avrai, lui, lei avrà, noi avremo, voi avrete, loro avranno. Io sarò, tu sarò, tu sarai, lui, lei sarà, noi saremo, voi sarete, loro saranno. Io avrei, tu avresti, lui, lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste, loro sarebbero. Io sarei, tu saresti, lui, lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste, loro sarebbero. Alla scuola di lingua ci sono molti studenti. Purtroppo non c'è il caffè per colazione. C'è molta gente al mercato di sabato. A Firenze ci sono sempre molti turisti. In questa stanza c'è un telefono. Nella torta ci sono i frutti di bosco. Ci sono molte cose da fare entro domani. Devo andare, c'è qualcuno al telefono. A Napoli c'è sempre molto traffico. Ci sono tante persone alla festa. In questa stanza c'è un divano. Alla radio c'è una bella canzone. Ci sono dei lavori in corso qui vicino. Nello stadio ci sono molti uomini. Sulla spiaggia c'è una bandiera verde. A Venezia ci sono i canali. C'è un incidente sull'autostrada. Per fortuna c'è tanto gelato nel frigo. In classe ci sono 22 studenti. In questa strada ci sono molti negozi. In piazza c'è una grande statua. Gli amici con cui mi incontro la sera sono simpatici. La ragazza di cui ti parlavo ieri è partita per Parigi. Sono pochissime le persone a cui telefoniamo. La città in cui abito ha molti monumenti antichi. Ci sono molti animali allo zoo, tra cui una tigre. Il treno su cui stava viaggiando era molto lento. Il motivo per cui vogliono partire è un mistero. Il dottore da cui va Chiara è molto gentile. Sono pochi gli amici su cui faccio affidamento. Gli spettatori tra cui mi trovavo seduto erano alti. Il ristorante in cui spesso mangiamo è italiano. Quella è la macchina con cui sono arrivato qui. La famiglia da cui ho abitato a Londra era gentile. Le due donne fra cui siedo sono le mie zie. Di chi è questa giacca? È la mia. Di chi è questo impermeabile? È il suo. Di chi è quella macchina? È la sua. Di chi è quello zaino? È il nostro. Di chi sono quei vestiti? Sono i loro. Di chi sono quelle sciarpe? Sono le mie. Di chi sono questi bicchieri? Sono i suoi. Di chi sono quelle bibite? Sono le sue. Di chi è questo cappotto? È il mio. Di chi sono quegli orologi? Sono i nostri. Di chi sono quelle case? Sono le loro. Di chi è quel bambino? È il suo. Io ho mangiato. Io mangiai. Io ho dovuto. Io dovei o dovetti. Io ho capito. Io capii. Tu sei andato. Tu andasti. Tu hai potuto. Tu potesti. Tu hai preferito. Tu preferisti. Lui, lei ha cominciato. Lui, lei cominciò. Lui, lei ha venduto. Lui, lei vendè o vendette. Lui, lei ha finito. Lui, lei finì. Noi, lei non è finito. Noi siamo arrivati. Noi arrivammo. Noi abbiamo dovuto. Noi dovemmo. Noi siamo partiti. Noi partimmo. Voi avete portato. Voi portaste. Voi avete potuto. Voi poteste. Voi siete usciti. Voi usciste. Loro hanno comprato. Loro comprarono. Loro hanno venduto. Loro venderono o vendettero. Loro hanno dormito. Loro dormirono.